sto per esplodere sto per esplodere perché ho mangiato come un maiale mica peraltro allora stasera è anche il trecentesimo video me ne sono accorta prima mentre guardavo il canale 300 video io non ricordo quando ho iniziato a caricarli ma 300 video sono minimo 300 giorni dall'inizio di questa avventura me viene l'ansia quasi un anno allora partendo con la mia amica miss smoke stasera è già un po' che non la faccio e quindi vi beccate vi sopportate vi ascoltate storia del paranormale perché perché la storia del paranormale anche se molte volte non la cacate tanto è in realtà fondamentale per comprendere perché proprio attraverso le esperienze che ci arrivano dalla storia che noi possiamo collegare realmente i fatti le nostre nozioni ciò che anche noi stessi abbiamo vissuto perché io faccio anche l'altra rubrica testimonianze di una vita dove racconto proprio materialmente ciò che ho vissuto e come l'ho capita perché molte persone hanno vissuto cose non dico uguale a me ma magari simili o con qualcosa con qualche similitudine e l'hanno invece interpretata in modo erroneo oppure non l'hanno compreso non hanno capito proprio il senso di questa cosa qua come avevo fatto per esempio spiegando nel video dei bambini che volano spiegando nell'altro video dei bambini che interagiscono con le entità e via dicendo comunque torniamo alla storia del paranormale allora oggi voglio raccontare la storia di un signore che si chiamava paul amedeus di enac ed era di zurigo questo signore visse nacque nel 1884 e visse il primo periodo della sua vita appunto a zurigo crescendo in maniera del tutto normalissima senza cose paranormali intorno a lui o altro e si laureò e divenne insegnante di tedesco la sua vita era abbastanza piatta era innamorato di una ragazza del suo quartiere ma questa ragazza qui decise poi di non mettersi con lui e di sposarsi invece con un altro meramente per questioni finanziarie perché quell'altro era più ricco così raccontano le cose rimaste su di lui fin quando tra l'altro questa ragazza qui poi dopo neanche due anni morì dal matrimonio neanche due anni dal matrimonio con con l'altro con il ricco morì di tubercolosi era un'epoca nella quale l'europa era devastato dalla tubercolosi lui appunto divenne insegnante di tedesco all'università insegnò per un certo periodo dopodiché nel 1915 iniziò ad ammalarsi in principio non si capiva nessuno i medici non riuscivano a comprendere che tipo di malattia fosse fin quando poi nel 1917 gli venne definitivamente diagnosticata un'encefalite letargica l'encefalite letargica era ed è a tutt'oggi anche se oggi più rara una malattia molto molto particolare perché era un'infezione del cervello da lì encefalite che portava la persona a dei periodi di coma dal quale poi ne usciva e ne rientrava e questi periodi diciamo comatosi potevano durare da pochi giorni a moltissimi mesi e così accadde al signor paul amadeus i primi mesi i primi sintomi lo fecero cadere in questa forma di coma per due o tre giorni e poi per poi riprendersi poi col susseguirsi degli anni perché l'encefalite è un'infezione del fegato che comunque dura e perdura negli anni arrivò anche a dormire cioè a stare in coma anche se lui lo definiva all'epoca un dormire i medici stessi definivano la situazione dell'encefalite letargica appunto chiamata letargica perché sembrava che il malato dormisse e appunto il signor paul amadeus entrò in coma per per quasi un anno ma era forse intorno al 1920 22 uscito che fu da questo coma decise di allontanarsi dall'austria questo perché perché nel frattempo perché se doveva chiamare fortunello di nome oltre a questa infiammazione infezione sua incefalica contraste anche la tubercolosi e il clima stesso del centro europa quindi dell'austria della della svizzera della francia e via dicendo non giovava assolutamente a quella malattia peraltro in epoca ancora nella quale era abbastanza mortale allora decise di trasferirsi in grecia dove l'aria mediterranea e il clima in sé della nazione greca avrebbero aiutato nel possibile la sua situazione patologica per quanto riguardava la tisi quindi la tubercolosi arrivato che fu in grecia aia mi punge qualcosa e non so che cosa vi sentite mai pungere qua io ogni tanto saranno i baffi li faccio crescere la moustache arrivato che fu in grecia iniziò anche lì il suo lavoro abituale quindi iniziò a insegnare tedesco e anche francese in università greca tra i vari allievi e tra i vari amici che trovò nella nuova nazione c'è fu un signore greco che si chiamava audri audri pacapazis qualcosa del genere che peraltro poi divenne anche un elemento abbastanza importante nella politica greca di quegli anni con il quale instaurò un'amicizia molto forte un'amicizia sincera successe che negli anni la tubercolosi purtroppo peggiorò fino al 1930 mi pare 28 30 nel quale il signor paul amadeus morì per la tubercolosi non per l'encefalite letargica della quale continuò a soffrirne ma a tratti come era stato sin dall'inizio quando però il signor paul amadeus morì lasciò in eredità a audri all'amico greco i suoi diari dai suoi diari comincia la paranormalità della sua storia perché il signor pacapazis l'amico greco perché con i nomi preferisco stringere che non è proprio semplicissimo pacapaz pacapaz sis non è semplicissimo da ricordare abbastanza ma da ripronunciare no? e in effetti sicuramente avrò anche ceffato la pronuncia per moltissimi anni tenne per sé questi diari dopo circa 50 anni dall'averli ricevuti decise invece di pubblicarli ebbe anche non poche difficoltà perché questi diari uscivano fuori da qualsiasi contesto logico e soprattutto uscivano fuori dai contesti religiosi di qualunque dogma mondiale peraltro lui era una persona di politica una persona estremamente razionale che non aveva mai avuto nulla a che vedere con la paranormalità e via dicendo tanto è vero che nel pubblicarli perché ne sentì proprio l'esigenza sottolineò capelli, peli c'è tutto sottolineò proprio il fatto che lui li pubblicava per come gli erano stati donati dall'amico defunto ma che si dissociava da qualsiasi cosa che riguardasse l'intera storia di quei diari quando furono pubblicati la gente iniziò a comprendere cosa c'era di così misterioso in questi diari Amadeus Paul Amadeus nel suo diario più importante raccontava proprio l'anno intero di coma portatogli dall'encefalite letargica cosa raccontava? raccontava questo praticamente Paul Amadeus si addormentò per a causa della sua encefalite letargica si risvegliò non sapendo bene quanto tempo fosse trascorso ma non era più Paul Amadeus di Enac si ritrovò dentro al corpo di un uomo ricoverato in ospedale anche egli stesso di nome Andreas Snorsan si ritrovò in Italia ricoverato in un ospedale dove parlavano in italiano e quindi lui in qualche modo non comprendeva bene la lingua con cui gli stavano parlando si ritrovò in mezzo a una schiera di amici e parenti che però lui non riusciva a riconoscere nonostante gli dicessero di essere appunto amici di Andreas ma lui dentro di sé non era Andreas era Paul Amadeus dentro al corpo di questo Andreas siccome era comunque una persona estremamente istruita e molto lungimirante molto abituata al ragionamento e alla ricerca iniziò a informarsi iniziò a chiedere palesemente tutto ciò che gli veniva in mente a questi pseudo amici che lui non conosceva a questi pseudo parenti che lui non riconosceva ai medici a chi che fosse gli venne quindi raccontato che si trovava nell'anno 3906 lui notava cose particolari che nei suoi diari descriveva nei più minuziosi dettagli dalle tute iperelastiche e di materiali sconosciuti quasi catarinfrangenti degli operatori ospedalieri fin quando poi venne dimesso da questo ospedale e si ritrovò uomo libero con una cospicua rendita finanziaria che non sapeva da dove arrivasse e con la possibilità di girare di viaggiare di scoprire sui suoi diari quindi scoprì di essere di trovarsi in una città chiamata Marx Forse Marx Forse sarebbe stata nei suoi diari ciò che oggi è la nostra Roma con dovizia di particolari descrisse nomi di tanti altri luoghi della terra diversi nuovi cambiati anche i nomi delle ere lui iniziò a studiare la storia ad andare a cercare il suo percorso per cercare di comprendere se ciò che realmente vedeva ciò che stava vivendo potesse essere reale o potesse essere anche una finzione stessa del suo cervello scoprì che dopo il ventesimo e il ventunesimo secolo così racconta nei suoi diari alle porte del ventiduesimo secolo ci fu nella storia dell'umanità una guerra una guerra nucleare una guerra pestilenza una guerra fatta di attacchi chimici attacchi batterici e via dicendo che in parte sterminò la popolazione mondiale i superstiti avevano completamente perso qualunque barlume di spiritualità anche le religioni non esistevano più nessuno credeva più niente e ci fu un periodo buglio dell'umanità definito era eldere da lui definita da lui l'era eldere considerate che in quel frangente secondo i suoi scritti il ventesimo secolo il ventunesimo il ventiduesimo secolo facevano riferimento a quasi duemila anni prima di dove lui era prodato quindi è come se noi ad oggi parlassimo di ciò che facevano gli antichi romani abbiamo tante supposizioni ma certezze ciao Cirillo ma i suoi diari non si fermano lui nei suoi diari copiò minuziosamente date e aneddoti importanti secondo lui che raccontavano appunto la storia del pianeta terra nella sua evoluzione fino al 3906 ho preso due appunti perché non ricordavo queste date e lui scrisse che nel 2894 avvenne una sorta di nuovo rinascimento la gente iniziò a uscire da quasi 700 anni di buio totale e grazie a un movimento politico chiamato il movimento dei duecento la popolazione umana cominciò a riemergere da questo buio raccontò anche che verso la fine appunto del 2000 quindi 2900 2950 la razza umana che stava iniziando a essere nuovamente sovrappopolata su questo pianeta decise di cominciare a colonizzare altri pianeti e il primo tentativo fu Marte perché da molti secoli era stato comunque studiato e attrezzato proprio per lo spostamento umano di un domani la colonia su Marte però durò a suo dire solamente 60 anni dopodiché un enorme cataclisma naturale verificato sul pianeta sterminò quasi 20 milioni di terrestri che lì si erano trasferiti Amadeus parlò anche degli alieni raccontando che il contatto con loro ci fu intorno al 3100 3200 definitivo e questi esseri intelligenti extraterrestri spiegarono alle nazioni terrestri che la loro venuta sul nostro pianeta c'era sempre stata da millenni e millenni ma semplicemente ci avevano sempre trovato come dei popoli troppo poco spirituali troppo poco evoluti troppo primitivi e troppo attaccati al materialismo per potersi confrontare con noi pertanto avevano qualche volta cercato di aiutare in maniera silenziosa la razza umana per cercare di mandarla in evoluzione in maniera più veloce ma senza mai farsi conoscere nel senso vero della parola fino appunto alla fine degli anni 2000 i primi degli anni 3000 ultima chicca che descrisse fu l'era iniziata io ho sempre preso appunti perché appunto le date non me le posso ricordare in questo caso quindi scrisse di una data particolare dove iniziò una nuova era anche spirituale nella quale le religioni non esistevano più perché non ce n'era più bisogno e non esisteva neanche più la politica perché le persone erano tutte cittadini del mondo e non esistevano più i beni materiali nel senso che nessuno neanche le leggi stesse erano più a favore del singolo individuo ma volavano giravano solamente intorno al bene della comunità collettiva anche i matrimoni a suo dire erano stati aboliti i rapporti erano liberi senza legami unica eccezione è fatta per i figli per avere dei figli in quel contesto bisognava secondo una determinata legge peraltro varata sempre secondo lui nel 3382 che dichiarava che per evitare la sovrappopolazione mondiale per poter concepire dei figli bisognava avere dei permessi statali altrimenti potevate trombare come delle scimmie ma figli no e questi diari continuano fino a un ultimo racconto dove lui dichiarava nel 3452 che finalmente sul pianeta terra all'esterno di cupole che lui descriveva come salvavita sopra le città stavano nuovamente nascendo le rose blu questa è una sua interpretazione della natura che probabilmente era tornata a rivivere in un pianeta ormai arido e nelle giornate in cui lui raccontava di essersi appunto risvegliato quindi torniamo al 3906 il mondo aveva cambiato completamente il suo modo di pensare di ragionare di esistere e la natura gli era tornata a favore che fosse un suo questi erano i miei appunti sulle datine perché non me le potevo ricordare veramente ce n'erano una marea e mezza di date ecco il ragionamento che posso fare su un'esperienza di questo genere un sogno così lungo seppur in uno stato comatoso e così dettagliato di nomi anche perché io molti non li ho appuntati ma lui descriveva nei suoi diari che peraltro non so nemmeno se siano reperibili perché l'amico appunto greco aveva fatto pubblicare questi diari quindi da qualche parte suppongo che ci sia qualche copia devo informarmi ma la dovizia di particolari di nozioni di nomi ere date precise è troppo specifica per essere stato un sogno seppur il suo stato comatoso si sia perpetrato per un anno che lui sia entrato nel corpo di un altro come lui stesso supponeva nel momento in cui lui cadde finì in ospedale e quell'altro appunto andreas snorsan cadde e finì in ospedale mi sembra abbastanza forzata quello che posso pensare e supporre è che in qualche modo la sua anima si sia potuta collegare alla sua stessa anima reincarnica in un futuro lineare della terza dimensione questo potrebbe avere un senso nella sua visione globale del tutto anche perché lui in questi diari narra di aver viaggiato di essersi spostato di essere andato a cercare ciò che lui ricordava quindi dal colosseo che non venne ritrovato alla tour eiffel a tantissimi posti e luoghi che lui ricordava di conoscere nel nostro 1920 1930 e molti vennero ancora ritrovati come diciamo simboli di vari luoghi molti invece come il colosseo erano completamente scomparsi nel tempo per scrivere una cosa del genere bisognerebbe avere credo una fantasia alla Lovecraft che considerando che comunque a livello fantascienza a livello racconti a livello ideologie fantascientifiche la fine del 1800 e i primi del 1900 furono dei grandissimi anni di boom però la dovizia di particolari i piccoli segni di ciò che raccontava sembravano troppo precisi per essere dei semplici racconti peraltro dati da uno che non aveva mai nella sua vita normale fatto detto dichiarato di scrivere racconti o cose del genere e il tutto svoltosi e scritto subito dopo l'anno intero di coma portatogli dall'encefalopatite letargica lascia tanti dubbi mi informerò meglio sulla sua questione personale anche perché conoscevo la storia volevo raccontarla ma mi sono andata a fare delle ricerche ovviamente per quanto riguardava le sue date specifiche perché il suo racconto i suoi diari sono talmente minuziosi che mi veniva praticamente impossibile ricordare nomi particolari e soprattutto date ma non ho pensato di cercare se si trovino anche scritti o stampe riguardanti questo caso quindi a breve mi butterò su google per cercare altre novizie di particolari nel frattempo con la storia del paranormale vi saluto vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove io frequento e un po' più sotto ci sono tre o quattro invece dei miei di libri e non dei diari del signor Paul Amadeus delle tre o quattro librerie più conosciute da Amazon Libri a Ibsa Streetlib Mondadori Feltrinelli e via dicendo ma si possono trovare dovunque sul web basta scrivere proprio su google letteralmente Sveva Molinaro Libri e esce fuori in tutto il mondo la vendita dei miei libri vi do la buonanotte trecentesimo video ci vediamo domani ciao